E per le opposizioni il giudizio delle agenzie di rating invece è un motivo in più di preoccupazione per le scelte economiche del governo. Per il PD questo governo porta il paese sul baratro e anche per Forza Italia si mettono a rischio i risparmi degli italiani. Alfredo Cardone. Le preoccupazioni aumentano. Il PD lancia un avvertimento pesante al governo dopo il giudizio di Standard & Poor's sulla situazione economica italiana. Siamo ad un passo dal burrone, sottolineano i democratici. La manovra mette a rischio il risparmio dei cittadini. La missione, rilanciano dal Forum per l'Italia di Milano, deve essere salviamo il paese. Noi non tifiamo per lo spread, scandisce Nannicini, tifiamo per l'Italia. Per questo, sottolinea, diciamo al governo, fermatevi e cambiate questa manovra. E da Firenze l'ex premier Gentiloni rilancia non c'è da essere ottimisti. Per questo dico che prima è, meglio è. Senza tatticismi, senza formule strane, questo è un governo pericoloso e prima questo governo pericoloso si dimette, meglio è per il popolo italiano. La manovra del governo gialloverde attaccano da liberi o uguali è iniqua ed inefficace, ma soprattutto, sottolineano, così come scritta non è in grado di far ripartire il paese. Il problema di questa manovra economica non è Standard & Poor's né il suo giudizio. Il problema è che questa manovra non fa quello di cui c'è bisogno, non interviene sul dramma della disuguagliata, non interviene sul dramma del lavoro. A preoccupare rilevano da Forza Italia l'atteggiamento del governo che gioca con i conti per ragioni elettorali in vista delle europee e Gelmini punta il dito contro il reddito di cittadinanza. Ci preoccupa un governo che gioca con i risparmi degli italiani per regalare il reddito di cittadinanza e per fare una manovra assistenzialista. Toni diversi da Giorgia Meloni sul pronostico.